Abbiamo conosciuto tante persone, conosciamo praticamente tutto l'hotel, siamo in tanti gruppi, veniamo da tutta Italia. Tutte le escursioni firmate a GiocaMondo sono un mix perfetto di emozioni ed esplorazione del territorio. Inoltre grazie al servizio online e alla mia istante in diretta per i genitori è possibile eseguire le attività che svolgono i ragazzi grazie alle foto che vengono caricate sul sito quotidianamente dalla segreteria. All'interno di ogni struttura GiocaMondo a disposizione dei ragazzi è presente un servizio sanitario H24 con un dottore e un infermiere sempre presenti per tutta la durata del soggiorno. Grazie per la visione!